giuro se perdiamo è colpa tua te lo dico ti avverto subito ti ti espulgo ti ho attaccato una glinger a te ma io lo so scarso scappa scappa io lo affronto sto bot sto bottazzo raro io l'ho attaccato è morto è morto l'ho attaccato se sto per morire aiuto aspetta devo un attimo andare via se non mi fanno fuori Alex non mi abbandonare arriva arriva io l'ho attaccato io l'ho attaccato 100 è bassa io l'ho fatto era fuori uffa arrivo ok io l'ho attaccato mi sembra di sì ok è morto vai 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 101 è basso è basso probabilmente lo faccio fuori ma ma cosa ho fatto ho tirato la glinger a casaccio no no geni del male oh vai oh vai oh vai oh vai oh vai oh vai eh no eh già ma allora adesso io ho un medikit non ci sono non ci sono non c'è niente per scappare sabbia sabbia giulio sabbia se no si è morto mi sa che moriamo comunque mi sono salvato per pochissimo perchè qua c'è il dirupo pensiamo a lui pensiamo al compagno è solo penso che non abbia nulla è la fine c'è una cesta c'è una cesta è la fine la mia speranza ok Clinger Clinger giuro giuro c'è gente dietro non di corte bianca mi sa che ora ci fanno morire vero dov'è il tizio? è scappato ok bene allora no eh però ora vuole di safe come perchè sei andato così fuori safe guarda quanto sono in alto quelli ci arriviamo fino a quelle altezze eh io ho un casino di materiali eh ma ci stanno provando a buttare giù eh vabbè mi hanno buttato così che non lo prendiamo si tanto guarda quali sono buttati giù credo si sono mi hanno buttati giù bravo 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 con quelle skype però bisogna magari quando lo fai qui no ma dai no mi vuole picconare sto bottazzo è caduto è caduto è morto ho mai lì che c'è da darti arrivo sali su dove sono gli altri aspettami le bende ti do il mail aspetta faccio io te builda per te io faccio per me ho 22 bouncer giuro posso salire un casino in pochissimo tempo guardami guardami giuro guardami mi è caduto un tizio addosso ed è morto ha loot? no no non mi è caduto loot però è morto a caso io sto spiando i tizi dall'alto oh sono arrivato a loro altezza giuro sono più in alto di tutti giuro sono quello più in alto di tutti va bene io sto spiando i tizi sotto dall'alto quello in high ground che era nella sky base è sceso su di me perchè ho messo la bouncer però poi ho messo il pavimento e quindi lui è morto capito? no voglio fare una cosa ora scendo giuro da qui e tiro tipo delle granate aspetta eh guarda guarda dov'è dov'è? non lo vedo più aspetta scendo pure io perchè non ti voglio lasciare da solo aspetta bene 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 usa le shadow le shadow le shadow fai spottare tutto fai spottare tutto no 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 ok pronto? vai vai esci dove hai attaccato ancora? laggiù laggiù vai vai ti sei fatto sei morto però oddio inverno reale non l'avevo visto